24.06.2010 Sono le 5 circa ragazzi Siamo praticamente tra pizzi del corteo Il nostro comandante signor Pianti Salve signor Pianti Con la nostra birra vecchinoza speciale in Sardegna Come sempre siamo fantastici Poi qui c'è il capitano Pedis Adesso ci stiamo dirigendo verso dove delle corse oppure dove dei corsari Guardate che spettacolo ragazzi Queste cose più belle del mare qui Adesso vediamo L'abbia d'oro Vi faccio una zoomata I figoteri Ecco là dove E i corsari Da che li fanno i corsari La bombardarono Ma ne ho ancora in tanti Esatto Qua il mio collega Simone E chi non usa special? Il 70 Johnson E' una bomba Gira che è una meraviglia Quando vuole E se vuole Sì Stavo a dire che quest'anno al mare non ci sono ancora andato E' una bella gira sotto alle corsari dove non sono mai stato praticamente Stati qui Stati qui Uè figa Sono più bello Le Stai questo video da Piazza Vigana Siamo in Sardegna ragazzi Se mica siamo a Milano, Torino, Napoli, siamo in Sardegna, cioè costa è fantastica, vita fantastica e mare è fantastico, è frido soprattutto, fantastica.